Sai cosa davvero mi sta sulle p***e? Gli approssimativi. Quelli che devono improvvisare e devono fare un lavoro approssimativo che rasenta la sufficienza senza l'impegno e la cura nel dettaglio. Ti spiego. Nessuno nasce professionista, ma se pensi che fare ad esempio un video o gestire social o rilasciare contenuti sia interessante per il tuo business, non puoi limitarti a copiare male chi lo fa di mestiere. Accetta il fatto che non puoi conoscere le tecniche che stanno alla base di un mestiere che non è il tuo. Accetta il fatto che dovrai investire del tempo o forse del denaro per imparare le fondamenta. Detto questo, evita di fare le cose in maniera approssimativa. Vengono male, sono obiettivamente brutte, ma soprattutto non pensare di essere diventato un professionista perché hai abbozzato qualcosa a livello grafico, a livello video o di contenuti. Si vede che è fatto male. La fuori è pieno di gente brava che può darti consigli, anche gratuitamente, e chiedere per conoscere è sempre la scelta migliore. Te lo garantisco.